La Rezza è di nuovo in campo dopo la settimana perfetta, la vittoria di Siena che ha interrotto il digiuno di 53 anni. L'altra vittoria di domenica contro l'Alessandria, la capolista battuta per 1-0 da un altro gol da 3 punti di Alessandro Polidori. Da verificare le condizioni di Yanga e De Feudis che però sono in gruppo con i compagni e che quindi potrebbero essere di nuovo a disposizione per la trasferta di domenica a Pontedera contro il Tutto Cuoio. Si sono aggregati al gruppo anche i due nuovi acquisti, vale a dire le portiere Simone Farelli classe 83 che l'Arezzo ha prelevato dal Trapani e il difensore Luigi Luciani classe 96 che arriva in prestito così come Farelli dal Venezia. Sono gli ultimi due colpi di mercato per una campagna trasferimenti che quindi per l'Arezzo possiamo considerare chiusa. La rosa è stata rinforzata come hanno dimostrato anche le prestazioni di Barison e di Cenetti che sono stati tra i migliori in campo. Anche domenica contro l'Alessandria abbiamo detto prossima partita si va a Pontedera contro il Tutto Cuoio si preannuncia un altro esodo di tifosi. La prevendita è già cominciata, biglietti a 11,50 euro, attivo il porta un amico, i possessori di tessera del tifoso potranno acquistare un tagliando anche per chi la tessera del tifoso non ce l'ha. Per un Arezzo che ha ritrovato grande entusiasmo, grande compattezza con l'ambiente che ha meno uno dalla seconda posizione in classifica e possiamo dire che dopo le vittorie contro Siena e Alessandria per gli Amaranto potrebbe cominciare davvero un altro campionato.